Il comune di Castellabati ha ricevuto anche quest'anno la sua 17esima bandiera blu della FEE Italia. È dal 1999 infatti che il prestigioso riconoscimento viene assegnato ininterrottamente al paese di Benvenuti al Sud. Bandiera blu d'Europa, quattro vele di lega ambiente, giovello d'Italia, borghi più belle d'Italia. Io lo dico con orgoglio e con soddisfazione perché ovviamente questo significa il pregio naturalistico ambientale che questo territorio ha, ma però testimonia e lo dico con una punta di orgoglio anche il grande lavoro che si sta facendo a Castellabate perché avere questi attestati, avere queste riconoscenze rappresentano il lavoro, rappresentano la crescita di questa comunità in genere che va dalle cose più semplici alle infrastrutture, che va dalla raccolta differenziata che sta crescendo e ci attestiamo su livelli veramente di tutto rispetto, all'accoglienza, alle strutture ricettive importanti che noi abbiamo in questo territorio, ai servizi che cerchiamo di migliorare ogni anno. Quindi è un insieme, come dico sempre, è un modello che si cerca di conseguire, di perseguire sempre con risultati importanti e che impegnano tutti, il sindaco, l'amministrazione, ma impegnano gli operatori, impegnano i cittadini perché raggiungere questi risultati non si raggiungono con l'impegno di uno, ma è un'azione sinergica che deve riguardare tutti.